Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. L'Angelo del Signore portò l'Annuncia a Maria, ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo Seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco l'Ancella del Signore, si faccia di me secondo la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo Seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne, e vengi ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo Seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Amate di Dio, affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi in noi, oh Signore, la tua grazia. Tu che all'annuncio dell'Angelo ci hai rivelato l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Supplica alla Madonna di Siponto nel tempo della prova. O Maria, piena di grazia, Madre di Dio e della Chiesa, generazioni di credenti si sono rivolte fiduciose a te, con il titolo di Vergine Santissima di Siponto. Guarda, noi, tuoi figli, in questo tempo di preoccupazione e di sofferenza, per il contagio che alimenta la paura, ostacola le relazioni ed impedisce la normalità delle giornate. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Tu che sei uscita dalla tua casa per essere vicina ad Elisabetta, soccorrici nella nostra fragilità. Visita i malati, illumina le scelte delle famiglie ed ottienici dal Figlio tuo Gesù Cristo la liberazione dall'epidemia che ci sta minacciando. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Madonna Santissima di Siponto, veglia sul tuo popolo. Dona sapienza ai governanti e agli amministratori, perché sappiano prendersi cura del popolo affidato alla loro responsabilità. Sostieni chi si spende per i bisognosi, i volontari, gli infermieri, i medici, che sono in prima linea nel curare i malati, anche a costo della propria incolumità. Ottienici dal Signore la benedizione della Chiesa. A partire dei Suoi ministri, rendi l'assegno e strumento della tua luce e della tua bontà. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. O Maria, consapevoli dei nostri peccati, ci affidiamo a te, Madre di misericordia. Accresci la nostra fede, accompagna le famiglie, rinsalda l'armonia tra i genitori e i figli, preserva gli anziani dalla solitudine, fa che nessuno sia lasciato nella disperazione dell'abbandono e dello scoraggiamento. Intercedi per i poveri. O Vergine Santissima di Siponto, accogli le nostre preghiere e risplendi sul nostro cammino come segno di salvezza e di sicura speranza. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo noi essoli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Il Signore sia con voi. Vi benedica di onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio.